Ecco qua, siamo con Trimarchi, ragazzo che merita, un ragazzo tecnicamente importante che torna dall'infortunio, ha giocato poco ma è stato importante per il gruppo e per lo spogliatoio. Cosa dici Fabio? Raccontaci un po' le tue impressioni. Niente, che è stata sudata, ma ce l'abbiamo fatta e salvezza meritare. Grazie Fabio. Cosa ne pensi, il prossimo anno sarà il tuo anno? Speriamo. Grazie Fabio.